Buongiorno, possiamo riniziare la sessione subito dopo pranzo, il direttore Corrado Spinella purtroppo in questo momento non potrà partecipare perciò presido io la seconda parte della giornata. Cominciamo subito, c'è stato un veloce cambiamento di programma, presenterà Alessio Beverina per Panicast Partners, collaborazione tra venture capitaliste e eventi pubblici di ricerca. Buongiorno a tutti. Allora, l'idea di base di questo mio talk è tra molto brevi ma sono pronto a prendere delle vostre domande. Scusa. Vi presento innanzitutto il mio nuovo fondo, Panacast Partners è un fondo che avrà vita a giugno di quest'anno basato in Italia e dedicato unicamente al mondo del medical device. Siamo stati costruiti ex novo durante l'anno scorso da un team assolutamente complementare, me stesso di cui parlo successivamente, Diana Saraceni che era uno dei partner di 360 capital partner e da un imprenditore, quindi un mix tra imprenditori e venture capitalist. Un imprenditore che ha creato all'inizio degli anni 90 una società che è oggi leader nel mercato dell'IRM e degli ecografi che si chiama Esaote. Abbiamo deciso di focalizzarsi unicamente in un settore, che è il settore del medicale. Questo è qualcosa di abbastanza particolare per il mercato del venture capital in Italia. In Italia esistono un certo numero di fondi che sono per lo più generalisti. Di più in più esistono dei fondi che sono focalizzati. È un trend fondamentale che esiste già all'estero con fondi dedicati dove c'è l'expertise degli investitori a livello tecnologico, ma anche a livello di mercato, a livello di network in un particolare settore. Investiamo in start-up e piccole e medie imprese. In Italia, ma anche all'estero, questo è un parametro fondamentale sul quale mi piace spiegarvi due parole in più. Quando si vede una start-up in Italia, magari, che ne so, nel settore delle valvole aortiche, si pensa che questa società sia fantastica. Non poter andare a vedere queste società all'estero, che fanno esattamente la stessa cosa con un prodotto competitivo, è un grosso handicap. Avere un fondo che permette di andare a vedere altre opportunità all'estero e necessariamente investire magari in queste opportunità è qualcosa di fondamentale per la conoscenza e per la scelta migliore del fondo. Chiaramente siamo dei rompiballe, forse qualcuno prima ci ha definito il vile denaro, non so cosa ci sia di vile nel denaro, francamente, ogni ricercatore ricerca soldi e tutti vogliono farli. Comunque, per aiutare le start-up noi mettiamo non solo i soldi, ma tutto il network, tutte le nostre conoscenze sulla tecnologia. Infatti una cosa che succede molto spesso, di cui magari entro un po' più nel dettaglio successivamente, è il fatto che cerchiamo anche dopo un semplice incontro con una start-up su cui magari decidiamo per diversi motivi di non investire, diamo dei suggerimenti, consigli, li indirezziamo a certe persone che possono aiutarli su un certo numero di fattori. A noi non costa nulla, alla start-up può essere fondamentale e magari due anni dopo la start-up riviene a vederci con un business plan modificato, un mercato nuovo, eccetera, eccetera, e magari a quel punto noi decidiamo di investire. Siamo dei rompiballe, come dicevo, nel senso che ogni volta che un investitore entra via i patti parasociali, questi grossi documenti legali in cui l'avvocato precedentemente ci spiegava, noi vogliamo essere presenti nelle decisioni fondamentali della società. Non vuol dire che veniamo a vedervi tutti i tre mesi per fare un controllo di quello che fate, ma vi sentiamo due giorni, tre giorni, quattro giorni a settimana? Allora, giusto per fare un feedback su di me che è abbastanza interessante perché 18 anni fa ero un ricercatore, lavoravo in un laboratorio di ricerca francese che si chiama Leti, che sicuramente tutti conoscete, e successivamente ho lavorato per tre anni in ST Microelectronics. Ho fatto ricerca di base, ho fatto le mie pubblicazioni, ho fatto i miei brevetti, poi sono passato in ST Microelectronics dove ho fatto l'industrializzazione dei processi per avviare su un prodotto, e poi sono scappato perché volevo scoprire cos'era il lato mercato, il lato che mi mancava. Ho fatto un piccolo MBA, eccetera, eccetera, e sono andato a lavorare in un Technology Transfer Office del CNRS, quello francese, dove sono rimasto sei mesi, nove mesi, in cui ho capito che c'era una quantità di tecnologia, particolarmente in Francia perché era il CNRS francese, disponibile per creare start-up. In un momento abbastanza simpatico, stavo negoziando una licenza con una start-up a partire da un brevetto del CNRS, e lì ho conosciuto Sofinova Partners, che mi ha proposto di raggiungerla. Sofinova Partners è il più grosso fondo di venture capital francese, sono alla generazione ottava del fondo, hanno più di un miliardo sotto gestione ed investono unicamente in start-up, con ottimi risultati perché essere dopo 40 anni ancora lì vuol dire che i risultati ci sono. Giusto un numero, negli ultimi due anni abbiamo venduto per 4.8 billion di società, 12 società, e queste società all'inizio avevano in media 4 impiegati, zero, fatturato, molto spesso un brevetto. e sono quindi diventato un investitore, quello il denaro, il vile denaro, il mechant, come dicono i francesi, il cattivo. E in Sofinova ho investito in una decina di società, in Francia, in Inghilterra, in Norvegia, non in Italia, nonostante abbia provato, devo dirlo francamente. E una delle cose che si fa all'estero rispetto magari a quello che si fa un venture capital in Italia è che si cerca il contatto con la start-up, si cerca la tecnologia, si cerca l'imprenditore, si cerca il mercato e soprattutto io spendevo il 20-30% del mio tempo a contattare grandi gruppi per capire quali erano le loro problematiche, quali erano i loro interessi nel mercato, come potevano risolvere i loro problemi e poi andava a cercare la tecnologia magari in un laboratorio di ricerca. Due secondi su questa slide, molto semplicemente, questi sono i target del mio fondo, non voglio perdermi sul dettaglio ma facciamo tutto quello che è device, non facciamo biotech. Noi, io, Diana e Fabrizio siamo tre ingegneri. Di biotech non ci capiamo assolutamente nulla, non possiamo fare investimenti invalidi. Facciamo therapeutic device, healthcare IT, diagnostic e tutto quello che in realtà è la stessa cosa ma che è un'efficacia legata unicamente a un impatto economico sul sistema sanitario. Questo qua lo dicevo precedentemente, non entro nei dettagli. E arriviamo su una delle particolarità del nostro fondo. In realtà il nostro fondo ha tre particolarità. Innanzitutto la prima particolarità è che insieme a noi tre abbiamo un gruppo di advisor di ottimo livello fatto solamente da italiani. Abbiamo i sei, otto ex CEO, delle più grosse success story italiane nel campo del METEC, dal CEO di EOS al CEO di Invatec, eccetera, eccetera. Seconda particolarità è che abbiamo fatto una partnership con, per il momento 4, in realtà ce ne sono altre 3 in firma. Abbiamo fatto delle partnership con degli istituti, incubatori, centri di ricerca che sono a, diciamo, a un livello mondiale nel campo della ricerca medicale. IT, Fila Rete, Istituto Sant'Anna, Toscana Life Science, ce ne ho altri 3 ma non posso ancora dire perché finché non ho la firma, non ho la firma. L'idea di base di questo partnership è molto importante ed è una delle ragioni per la quale sono qui oggi. Molto spesso noi chiediamo di vedere una startup. Ok, tutti possono venire a trovarvi, il vostro technology office transfer può dirmi Alessio ho questa società, eccetera, eccetera. Certo, ma io voglio creare la relazione, voglio creare la relazione con i ricercatori, con il technology transfer office e voglio indirizzare in qualche modo le startup. In che senso? Se io vedo una startup che fa qualcosa che trovo assolutamente interessante, ma che trovo che dal punto di vista del mercato si sta completamente sbagliando perché ho visto 14 società negli stessi tempi che fanno esattamente la stessa cosa nello stesso settore. Gli dico, la startup lascia perdere, il mercato is crowded. Fai qualcos'altro, utilizzi la tua tecnologia che permette di misurare la proteina, le sangue, eccetera, eccetera, per fare qualcos'altro. Quindi il concetto di aiutare la startup nei primi giorni di sviluppo della sua tecnologia, della sua applicazione, della sua piattaforma, verso qualcosa che è molto interessante. Sappiate che un venture capital come noi vedrà 300 opportunità all'anno. Queste sono le statistiche nel campo medicale. In Sofinova ne vedevamo 2.000. Capite che se noi vediamo 2.000 o 300 nel campo medicale, opportunità all'anno. La nostra conoscenza, il nostro cervello, visto che le leggiamo tutti i business plan e visto che discutiamo con tutti i corporati, è molto importante. Quindi abbiamo un pozzo di idee che rimane nella nostra testa. Se possiamo parlare con voi 10 minuti, 20 minuti, un'ora e mezza per darvi dei consigli dicendo ah, mi hai visto questa tecnologia, ah, mi hai visto questa società qua, non è che fanno qualcosa di simile, eccetera eccetera, secondo noi è di valore per voi. Ma è anche di valore per noi perché dietro, domani, quando voi avete avanzato nei vostri progetti, eccetera eccetera, magari venite a ritrovarci dicendo mi avevi dato dei buoni consigli, mi piacerebbe che tu sia un buon investitore nel nostro. Questo è un altro dato fantastico secondo me e da vedere insieme alla pagina dopo. In Italia, una delle ragioni per la quale dopo 18 anni all'estero sono etanolata in Italia, in questo momento è legata al fatto che in Italia c'è una ricerca incredibile che è fondamentalmente mal sfruttata. Ottimi paper, patents, eccetera eccetera, però a livello di trasformazione di questa tecnologia in innovazione, startup e roba è veramente bassa. Sfortunatamente in Italia questo è il numero di investimenti come percentuale del GDP. Calcolate che Israele e US are out of the chart, sono talmente talmente importanti che non è in conta. Se guardate l'Italia, a livello della Polonia, della Grecia, della Romania, c'è Crepado. Quindi dal mio punto di vista c'è molta ricerca, gente in gamba che può sviluppare della tecnologia di primissimo livello, sfortunatamente non ci sono i soldi come al solito, il vile denaro di cui qualcuno parlava precedentemente. C'è un'opportunità per un fondo come me di fare i soldi, se mancano i soldi, io sono l'unico che può mettere i soldi, scusatemi, c'è un advantage, competitive advantage. Mi hanno detto di cercare di spiegare cos'è che vedo come problematiche. Io negli ultimi dieci anni ho frequentato, discusso spessissimo con diverse università straniere, da Oxford, Cambridge, SOA, SNRS, Fraunhofer, eccetera, eccetera, con cui avevo una relazione periodica, andavo a vederli, incontravo in un determinato periodo e tematica. Molto spesso, discutendo con un ricercatore, se io ho stato nella mia vita precedente un ricercatore, ho un minimo di affinità, molto spesso non metto la giacca e cravatta. La cravatta non ce l'ho mai. Il ricercatore deve rendersi conto che tutto quello che fa è ricerca e brevetti, che l'innovazione è qualcosa di fondamentale per tutto quello che abbiamo anche sentito stamattina, che il team competence, soprattutto nell'altro tecnologico, è fondamentale. Però molto spesso si rende conto, nei paesi diciamo latini, un po' di più rispetto ai paesi anglofoni, che bisogna rendersi conto di cos'è il mercato, a cosa serve la tecnologia, che cosa bisogna fare a livello di team. Non è semplicemente prendo uno che si occupa delle finanze, perché non ci capisco niente. No, è una persona che deve avere un'ambizione e la capacità di parlare ai clienti, di parlare e gestire dei technology, francamente i technology sono le persone più difficili da gestire, ma voi lo sapete meglio di me, visto che lo siete, che abbia l'ambizione di creare un progetto, eccetera, eccetera. Quindi c'è tutto quello che manca, che bisogna saper creare, per creare veramente una startup. Altro esempio molto pratico, in cui mi sono scontrato spesso, spesso, e sbagliando e perdendo anche i soldi, è che fare un prototipo è fantastico, fare l'industrializzazione, che fatica. E poi passare alla commercializzazione, che fatica. Quindi sono tre stadi completamente diversi nella vita di una startup, che molto spesso il team all'inizio non è capace di fare. Quindi bisogna essere anche capaci di accettare i propri limiti e dire, io domani faccio venire qualcun altro che mi rimpiazza, o che mi si affianca. Ok? Chiaramente il discorso tra una persona come me, questo termine è stato usato stamattina, si è parlato molto di comunicazione. La discussione tra me, che sono un finanziere, e il ricercatore, parliamo di lingue diverse, io parlo di pre-money valuation, voi parlate di, ah voglio fare questo ione che entra nella batteria per annontare, però è fondamentale che ci sia un intermediario. Questo intermediario può essere un business manager, qualcuno che capisce, può essere un technology transfer office, può essere un intermediario che permette di far creare del valore dal punto di vista del mercato, attenzione non ho parlato di tecnologia, del mercato, sulla vostra tecnologia. E che me lo sappia spiegare. Vi faccio tre esempi. Parto dall'ultimo. Sfortunatamente sono tre società francesi, l'ho presa a caso stamattina mentre facevo la presentazione. A lei è una società che è stata creata al COA a Grenoble nel 2012, creata da due ingegneri, ricercatori del COA, esperti in LED. Impossibile lavorarci, li conosciuti dal 2011 fino a quando ho fatto l'investimento nel 2012, fatica. Cioè erano proprio duri duri. La tecnologia è una tecnologia assolutamente rivoluzionaria, è una tecnologia che nel campo del lighting permette di ottenere dei costi per il LED chip diviso per 5, 6, 7. Perché? Perché utilizzano il silice 8 pollici, cosa cara all'ST Microelectronics. Perché permettono di avere molto più luce che esce, che viene estratta per ogni centimetro quadrato, eccetera, eccetera, eccetera. E accidentalmente si può fare del vafer level packaging. Quando voi sapete che Philips becca 15% di royalties su ogni LED venduto, perché c'è un brevetto di Philips che dice che se tu hai un chip LED, un chip microcontroller e li connetti, mi paghi. Grazie alla nostra tecnologia evitiamo di pagare Philips. Quindi ulteriore guadagno. La tecnologia è creata da due ricercatori completamente fuori di testa. Esagero un po', eh? Non diteglielo. Faccio venire un manager, prima di investire, che è stato un manager di successo italiano, tra l'altro romano, nella Silicon Valley, che ha creato una società che si chiama Bucam, che è uno dei leader del Telecom Component, società che oggi fa 600 milioni di fatturato, eccetera, eccetera. Il tizio all'età di 52 anni era partito in pensione all'americana. L'ho preso su, gli ho detto, entra nella società, fammi da chairman, anzi perché non mi fai da CEO, eccetera, eccetera. La società è stata finanziata all'altezza di 10 milioni con investitori americani e francesi per una società di due persone in Francia con una tecnologia pre-prototipo. Pre-prototipo. Tre anni dopo la società, sono 45 ingegneri e PhD, abbiamo un prototipo funzionante e stiamo facendo una roba bellissima che non posso dirvi oggi, sarebbe giusto dirvela oggi ma non posso, una cosa bellissima dal punto di vista del next step per entrare nel mercato. Questo è un esempio. Faccio il secondo esempio. McPhee Energy, società di due persone quando l'ho vista nel 2008, società che produce dei materiali nanocompositi per fare stoccaggio di idrogeno a base di magnesio. I due ricercatori assolutamente brillanti ma ancora difficili, gli dico no, 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 non investo, eccetera, eccetera. Gli dico ma perché non fate questa applicazione qua, stoccaggio di energia per le rinnovabili. Loro mi dicono no, 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 vogliamo fare il portatile storage. Un anno e mezzo dopo vengono a vedermi, dicono no, abbiamo cambiato idea, vogliamo fare lo storage per le rinnovabili perché abbiamo dei sistemi molto più grossi. Gli dico sì, perché non parlate con questo CEO qua, con questa persona qua che mi sembra molto competente, ha lavorato per l'early kid, quindi l'idrogeno lo conosce, ha lavorato in una startup, Soitec, nel campo dei materiali di successo per cui lavorare nella startup conosce, si sono messi assieme, nel giugno del 2010 vengono a trovarmi, li finanzio, insieme a me porto altra gente per finanziarli, nel 2012 prendiamo altra gente per finanziarli, nel 2013 altra gente per finanziarli, nel 2014 facciamo un IPO. Oggi la società è ancora piccola, la società pubblica fa 10 milioni di fatturato, nel 2010 quando è investito aveva un prototipo grosso così. Ok? Tecnologie brevettuali, ritorno su un parametro molto importante, aledia, brevetti, paura, 65 brevetti, tecnologie di base, abbiamo il blocking patent come si chiama. McPhee? Zero. Capacità imprenditoriale del manager che è entrata, grazie a noi, nella società di trovare il cliente, trovare l'applicazione del mercato, sapersi guardare intorno per vedere cosa succedeva, eccetera, eccetera. Quindi due casi estremi. Poi veramente, posso raccontarvi una marea di storie. Sensitive Object abbiamo veduto una società con un brevetto, una tecnologia che non funziona, l'abbiamo veduta per 65 milioni. Ok? Ve l'ho messo a posto per raccontarvi anche le storie. Facciamo anche i soldi con qualcosa che magari il ricercatore pensava funzionasse e non siamo riusciti a mai industrializzarla, però l'americano ci ha comprato. Tutti contenti. Fondatori per primis, ancora una volta, cosa molto importante, il ricercatore non cerca i soldi, vile e denaro. Mi è rimasta qui la storia del vile e denaro. Il ricercatore non cerca i soldi, cerca cosa? Una renomea internazionale, secondo me anche un po' i soldi, perché voglio dire, la moglie ce l'ha anche lui. Per cui la renomea internazionale, di essere la capacità di dire, io ho fondato una start-up, che è diventata di successo, che è stata venduta, o che è diventata il leader del mercato e posso fare, è una cosa di orgoglio personale che, scusatemi, tutti hanno. Quindi il far venire della gentaglia come noi è fondamentale per poter trasformare un'idea, un progetto, la vostra ricerca in cose fondamentali. Grazie ad Alessio Beverina, introduco Ruggero Frezza, presidente M31 Italia. Tra l'altro leggevo un articolo interessante su Corriere.it del trasferimento tecnologico di un motore ibrido per bicicletta e mi piacerebbe saperne qualcosa di più quest'oggi. Allora, prima di partire, una breve premessa. Perché M31? Prima di M31 ero un docento universitario, lavoravo nel Dipartimento di Ingegneria delle Informazioni all'Università di Padova e ho cercato di lanciare diverse spin-off. Anche la prima spin-off ufficiale dell'Università di Padova è stata grazie alla partenza di Emotion a suo tempo che l'Università di Padova ha fatto il regolamento. Ne ho lanciate diverse in settori molto ampli, dalla tecnologia per il legno, fino all'analisi del movimento in clinica, fino al computer idea di ingegneri in tools per l'industria automobilistica. Imprese che, tutto sommato, non sono andate malissimo, ma non hanno mai sfondato raggiungendo decine di milioni di euro di fatturato. Ma sicuramente le decine di dipendenti operano su mercati internazionali. Ma vista da dentro, come ricercatore che ci ha provato, c'era qualche cosa che non funzionava. E i numeri di allora, nonostante questo grande trend che c'è in questo momento in Italia sulle start-up, gli incubatori certificati, eccetera, non sono purtroppo molto cambiati. Un numero l'abbiamo visto prima, quello sulla montata del licensing in generale in Italia. L'avvocato ce l'ha fatto impietosamente vedere presentandolo in senso positivo. Ma altri numeri sono importanti. se leggete sempre il rapporto Netval, il budget di tutti gli uffici di trasferimento tecnologico di tutte le università e centri di ricerca Italia è di circa 7 milioni di euro. 7 milioni di euro in tutta Italia, quando il budget della sola università di Padova supera i 700 milioni di euro. Quindi c'è qualcosa che non va. I fondi di venture capital in Italia sono in controtendenza. Nel 2014 c'è stato un boom del venture capital in Europa, in Italia sono diminuiti gli investimenti venture capital rispetto al 2013. Che cosa succede? Per fortuna nasce Panakes, nascono nuovi fondi quest'anno 2015, ma prima che nascano, se oggi io dovessi contare i fondi che investono in tecnologia in Italia, sono meno di le dita di una mano. Quindi è chiaro che in questo problema, in questo paese, c'è un problema legato all'innovazione, al trasferimento e alla creazione di nuove imprese. Possiamo vederla come una grande opportunità perché la slide che ha fatto vedere prima il dottor Beverina è chiaro, l'H-Impact è importante, la ricerca italiana è eccellente. Ma che cosa manca? Qual è la conseguenza? Perché non ci sono i fondi, che non ci sono le imprese tecnologiche di valore o perché non ci sono le opportunità di investimento che non ci sono i fondi. Non è chiaro che quale sia l'uovo, la gallina, causa e effetto. Non è, veramente non è evidente. Chi è il protagonista di una spin-off? Il ricercatore che la lancia? Lo studente dottorato? L'imprenditore che ha trovato il dottor Beverina o che troviamo noi che affianca l'IP? Chi è il protagonista? Perché le spin-off sono così importanti? Quando prima abbiamo parlato di licensing. Ma perché in tutto il mondo, se andate a vedere le presentazioni degli uffici di trasferimento tecnologico di qualunque università nel mondo, il primo cliente del licensing sono le imprese spin-off, start-up della ricerca. E poi il mercato del licensing è un mercato un po' come quella lotteria. Cioè puoi avere duemila brevetti e ne hai uno che ti fa il botto, ma pochissimi che ti danno un income molto piccolo. Quindi benissimo, ben vengano. Le spin-off sono più facili da vendere forse o per creare un giro economico che un brevetto. Però bisogna capire che c'è qualche cosa che manca. E gli ingredienti sono tanti. Se volete che vi dica, dal mio punto di vista, il primo ingrediente che manca in Italia, mancano le scuole di dottorato che siano in grado di raccogliere talenti dall'estero, da tutto il mondo. Delle vere scuole di dottorato super prestigiose che attirino talento di tutto il mondo. E poi forse c'è una cultura di impresa che non è esattamente in linea con la cultura di altri paesi o la cultura legata anche al capitale di rischio. Infatti in Italia, andando a vedere le statistiche, il finanziamento delle imprese è soprattutto in capitale di debito. Il famoso credito che manca piuttosto che in capitale di rischio. Questo porta a una gestione delle imprese anche diversa, una gestione più da conto economico che da stato patrimoniale. I famosi intangibles, che i principi contabili non ci permettono di mettere a bilancio, sono trascurati perché non portano poi a una conseguente capitalizzazione delle imprese. E allora nel 2007 ho deciso che forse era opportuno lasciare l'università per cercare di dedicarsi alla costruzione di una piccola impresa, l'intenzione è che diventi grande, attenzione, che costruisca spin-off della ricerca. Perché? Perché avendo lavorato per 19 anni e 6 mesi all'interno dell'università, prima in Italia e poi e prima ancora negli Stati Uniti, ho visto l'incredibile valore che c'è dentro i nostri centri di ricerca. È enorme, sono miniere pazzesche. E così ho fondato M31. Che cosa fa M31? Non fa cose molto diverse da quelle che ha detto prima il dottor Bevrina, cioè assiste i ricercatori che vogliono fare impresa nel costruire una spin-off di successo. Investiamo, cerchiamo co-investitori perché noi non siamo un fondo, investiamo il nostro patrimonio dentro le imprese, quindi cerchiamo anche co-investitori e cerchiamo di gestirli in modo tale che queste imprese possano raggiungere le dimensioni almeno di una ragionevole media impresa. Dove per media impresa sto parlando di media impresa italiana, quindi 30, 40, 50 milioni di euro di fatturato. Per quale motivo? Perché se riusciamo a raggiungere quelle dimensioni lì, anche per il nostro investimento c'è un'opportunità di rientro, grazie per esempio a una quotazione in un mercato borsistico, eccetera. Quindi con una minore attenzione forse verso cessioni, eccetera, consapevole anche delle dimensioni piccole di una struttura come la nostra. Allora, vi faccio alcuni esempi, visto prendo spunto dalla precedente presentazione, vi faccio alcuni esempi, però mi dovete dare una mano qui a farla partire perché non... aspettate un attimo, dov'è il tasto fatidico? Com'è? F5? Grazie, perché sono un deviato del Mac. Allora, prima di farvi partire un video, vi raccordo di questa. Ve le racconto, questo qui è Bruno, che è il ragazzo seduto sulla sinistra, è un ragazzo che ha studiato computer science a Padova, ma poi ha fatto il dottorato all'IRCAN di Parigi, conoscete l'IRCAN di Parigi. L'IRCAN è un centro di ricerca che si occupa di musica e di computer science. Allora, questa è un'impresa che a me piace tantissimo, ha sviluppato delle tecnologie sofisticatissime di machine learning in tempo reale, in tempo reale perché? Perché la musica, se volete che un gesto venga riconosciuto e si traduca in un effetto non sgradevole a causa di una latenza, bisogna che sia in tempo reale. Quindi tecnologie molto sofisticate di gesture recognition per far sì con quell'oggettino lì, anzi ne ho portato uno, eccolo qua. Un oggettino molto semplice, che non ha un costo insignificante. Questo oggettino qui lo metto sull'oggetto, lo connetto al telefono e trasformo qualunque oggetto in uno strumento musicale. La prima cosa che noi ci chiediamo è, ma questa impresa può raggiungere le dimensioni che dicevamo prima? C'è un mercato? Beh, quante sono le persone che hanno uno strumento musicale a casa? Quanti sono le persone, i ragazzi che seguono un corso di musica, un corso di chitarra, eccetera? Tantissimi. La musica ovviamente è comunque sempre presente nella vita delle persone. Quindi se io riesco a costruire uno strumento che posso vendere, immaginatevelo nell'Apple Store, con l'applicazione che mi permette poi di suonare dei MIDI file, il mercato c'è. E allora abbiamo investito e contribuito... Com'è che si fa partire il video? Così? Perché non c'è il... Parte? Sì, è proprio. Qui è un video che hanno fatto, poi vi dirò perché... che è un video che non c'è. Allora, questo è un video che ovviamente sono divertiti un sacco a farlo, che i ragazzi hanno fatto per un cliente, una multinazionale molto importante che opera nel settore dei giochi. Ma questa è un'impresa che ci sta divertendo tantissimo, vi faccio solo vedere al di là dei risultati, ovviamente hanno fatto un kickstarter project che è andato molto bene, hanno raccolto assieme a noi un milione e quattro di investimenti eccetera. Ma è la prima impresa per cui per esempio i costi di marketing sono un ricavo, è troppo divertente. Hanno fatto una pubblicità virale per la Mazda, la Mazda ha utilizzato la Mojis per lanciare la nuova vettura. Insomma, il primo anno di attività che noi pensavamo di chiudere senza ricavi perché il prodotto non era ancora industrializzato, abbiamo chiuso con ricavi positivi perché pagano Bruno per andare a suonare. Sta diventando un artista famoso. Vedete lì sotto quello, è un evento Burning Man che non so se conoscete, è l'evento più importante nel deserto, tutti i venture capital della California. Bruno è stato invitato a suonare a delle strutture di Burning Man. Sopra va bene come Ted, poi di recente è stato a South by South West pagato da Mazda, Fior di Quattrini per suonare la Mazda South by South West. Là sotto, questo è un evento Roundhouse di Londra con un gruppo famoso, Played eccetera. Il lavoro qui qual è? È quello che dicevamo prima, cioè costruire il team imprenditoriale, affiancare Bruno che è un grandissimo ricercatore e che è riuscito grazie alla sua statura di ricercatore a coinvolgere altri grandi ricercatori dentro l'impresa. C'è un team tecnologico incredibile. Il CTO di questa azienda qui si chiama Andy Farnell, se andate su Amazon e cercate Andrew Farnell è la bibbia della musica creata al calcolatore, il libro di Andrew Farnell. Faccio un altro esempio velocemente. Io salto, guardate, vado avanti e salto i numeri di M31 per non odiarvi e vado solo con due video. E questa è un'altra storia completamente diversa. Questa è una delle prime storie di M31, infatti la qualità del video risolve il fatto che questa è un'impresa che è partita da sei studenti di dottorato all'Università di Padova che lavoravano per il professor Barbieri, grandissimo astronomo, grandissime competenze nell'ottica adattativa, sono arrivati da noi con un piano di impresa che noi abbiamo accettato sulla base, abbiamo fatto il nostro errore, era sbagliato. Quindi questa è un'impresa che ha richiesto, si dice in termini tecnico, come si dice? Pivot, diversi pivot. Purtroppo è andata bene il primo anno, per cui ci abbiamo messo due anni a capire che era sbagliata. Cosa vuol dire che è andata bene? Vuol dire che uno dei più grandi distributori di componenti di ottica al mondo, Edmund, alla fine del primo anno di attività li ha selezionati come fornitore unico di componenti smart optics e noi pensavamo di aver fatto bingo. In realtà ha solo ritardato di un anno il fatto che ci accorgessimo che avevamo sbagliato il business plan. Adesso questo business plan è verticalizzato sul strumenti per la misura della vista, mobili, portatili, che utilizzano componenti di ottica adattativa all'interno e l'impresa è per fortuna decollata. Vi faccio solo vedere all'inizio del video, non vi vanno neanche saltare, scusate, vado indietro. Vediamo il video molto molto molto. And the patient, working in natural binocular conditions, the two wind simultaneously enables you to evaluate not only refractive errors, but also gaze direction, ocular alignment, pupil diameter, pupil distance, and the accommodative balance or imbalance between the two eyes. This all-in-one process is easy and effective. Penso che sia sufficiente. Quindi questo è solo il primo prodotto di una lunga pipeline di prodotti che sta sviluppando ad aptica per rendere la misura della vista un processo che si può fare remotamente in qualunque luogo. Quindi scardinare il concetto che uno debba andare dal dottore. E' lo strumento che vale dal paziente e si separa l'acquisizione del dato dalla refertazione. Questo concetto ha fatto sì che quest'anno ad aptica, per fortuna, è letteralmente decollata e sta crescendo tantissimo. Come ultimo esempio faccio riferimento a quello che gentilmente hai annunciato prima. Questa è una spin-off del Politecnico di Milano. E' una spin-off del Politecnico di Milano che nasce da un laboratorio eccellente, il Move Lab. Byte Plus manages your energy to enhance the ride experience by increasing your body efficiency. Using a patented technology, the system decides the best moments to give you a boost or to ask you a little effort to store some energy into the batteries. It also generates back energy to the batteries while braking. The system also pushes you on slopes, flattening your ride. All the Zeus technology lives in a tiny and light rear hub. It integrates batteries, motor, and electronics along with multiple sensors, detecting your pedaling kit. Va bene, voi dovete sapere che il mercato delle biciclette elettriche è un mercato che sta esplodendo. Solo nel 2013 ne sono state vendute un milione in Europa. Un milione. In cui 500.000 in Germania, 250.000 negli Stati Uniti e 200.000 in Giappone. Ma negli Stati Uniti è derivato così e in Europa è anche così. Ormai le biciclette elettriche nel 2013 hanno superato le vendite di scooter e di cinquantini in Europa e hanno raggiunto il 5% delle vendite totali di biciclette. Il fatto è che la bicicletta elettrica, se ci pensate un attimo, ha un problema prima di tutto di user experience. Cioè voi uscite e comunque dovete portare la bicicletta vicino a una presa di corrente perché dovete ricaricare la batteria. Quindi o staccate la batteria e la portate in casa o mettete la bicicletta in garage e la caricate. Questa non ha bisogno di essere caricata perché è un concetto dell'ibrido dove il ruolo del motore endotermico lo svolge il ciclista. E ci sono prove fatte in laboratori prestigiosi che dimostrano che noi abbiamo più o meno le caratteristiche di un motore endotermico. Cioè abbiamo un'area ad alta efficienza molto piccola e poi l'efficienza crolla. Questo fa sì che in percorsi urbani, per esempio di stop and go o in salite e discese, effettivamente con un aiuto di questo tipo l'efficienza complessiva può aumentare di molto. Ci sono dei test fatti in laboratori rilevanti che dimostrano che l'efficienza complessiva può crescere anche del 30-40%. Questa è un'impresa che è partita da poco, coperta ovviamente da 5 brevetti e tutto, ma già adesso sta parlando con i più grandi costruttori di biciclette del mondo, da Giants, Scott, Cannondale, tutti quanti. Ha già 80 clienti in negoziazione e si sta affermando a livello internazionale. Ma la cosa che volevo dire è che al di là della grande scienza che c'è dietro, perché dietro questo c'è veramente una grande scienza, c'è anche una grande innovazione in termini di modello di business, perché la bicicletta di solito è un pezzo meccanico, grazie al fatto che questa è una trasmissione elettronica, cioè elettronica, e immediatamente questo apre la possibilità di connettere la bicicletta di internet e di trasformare la bicicletta in una piattaforma internet of things per poter poi fornire servizi. Servizi che vengono dati tramite una app che si connette, che fa il dashboard della trasmissione. Vi ho voluto solo portare questi tre esempi, poi ci sono altre storie in M31, c'è Centerview, Adant e tante altre. Sono tutte imprese che abbiamo costituito con i fondatori, cioè in quale fase entriamo? Entriamo prima della costituzione dell'impresa, la costituiamo insieme ai fondatori, e ci consideriamo, se volete, un confondatore, quasi più che un investitore. Il nostro obiettivo sono loro. Se vogliamo, alla fine, convincere di investire nelle nostre imprese, cercare di fare in modo che anche fondi internazionali, importanti, possono essere attratte da storie di questo tipo. Tutte queste tre imprese che vi ho fatto vedere hanno assolutamente il potenziale di raggiungere i numeri che vi dicevo. E quindi hanno assolutamente il potenziale di essere imprese che vanno a quotarsi su un mercato che magari diventerà il Nasdaq italiano, chi lo sa, che è il nostro ora piccolo e in Italia. Ecco. Fermo qui. Ringraziamo Ruggero Frezza, Presidente M31 Italia. Ora ci dovrebbe essere, è stato un cambio di programma, ci dovrebbe essere Mattia Corbetta, membro della Secretaria Tecnica del Mise, che mi pare fosse in ritardo provenendo da... Mi sta scrivendo che è arrivato, è adesso diciamo in arrivo. Ok. Vogliamo iniziare intanto la tavola rotonda, poi dopo facciamo parlare Mattia quando arriva. Va bene, sì va bene. Io prego, per quante sedi sono possibili, i precedenti relatori, se si vogliono accomodare la tavola rotonda. Mattia è arrivato adesso. Ah, perfetto. Gli diamo il palco. Intanto che Mattia prepara, vi introduco prima me stesso e poi dopo Mattia. Da là dove c'è Giulio. Allora, Mattia è un... anche lui un giovane ricercatore, perché ho scoperto guardando su internet che sta facendo un dottorato di ricerca, giusto? E però è un ruolo ben più importante, per cui l'abbiamo invitato qui, uno delle persone che hanno steso e scritto il regolamento per il supporto alle start-up innovative. Per cui adesso ci... mentre sta caricando la presentazione, ci presenterà appunto il regolamento che è stato recentemente approvato e messo in attuazione per poi aprire il tavolo appunto della discussione comune. Grazie, scusatemi, arrivo un po' trafelato da Ginevra, dove ieri, lo dico non per fare una nota autobiografica, ma per comunicarvi una cosa che reputa interessante, al Palazzo delle Nazioni Unite si è tenuta la prima start cap della storia del sistema ONU, cioè per la prima volta il sistema delle Nazioni Unite in tutte le sue varie diramazioni ha dedicato un evento alle start-up, quindi questo fenomeno inizia ad atterrare anche ai palazzi delle organizzazioni internazionali e in particolare, indovinate chi ha vinto, una start-up italiana. Ha vinto una start-up italiana Orange Fiber che si occupa di riutilizzare gli scarti della produzione alimentare, in particolare degli agrumi delle arance, per impiegarli nella produzione di tessuti. E quindi sono molto contento, sono molto contento anche perché questa start-up che è stata la prima classificata, così come la seconda classificata, che tra l'altro è uno spin-off universitario, si chiama Jellyfish Barge, viene da Firenze e fa agricoltura idroponica, cioè senza terra, e risparmia attraverso un impianto di desalinizazione il 70% dell'acqua solitamente utilizzata per l'agricoltura. Queste due imprese, giovani imprese, la prima nata dal privato, la seconda in particolare dall'ambito accademico, sono start-up innovative ai sensi del decreto legge 179 del 2012, detto anche decreto crescita 2.0, che è il mio core business e che è la ragione per la quale sono stato invitato qua oggi. Mi riempie d'orgoglio perché si inizia a profilare un quadro un po' coerente, cioè il governo ha tracciato una definizione di start-up innovativa, cosa per niente semplice, le start-up stanno iniziando a utilizzare questi strumenti che sono stati messi a disposizione, dei quali mi accingo a parlare, e inizia a esserci un po' di riconoscimento, sia dal lato della comunicazione internazionale, come insegna appunto il caso di Orange Fiber e di Jellyfish Barge, sia dal punto di vista del mercato, e adesso vi darò anche un po' di numeri. start-up, io tengo sempre a fare questa precisazione, non so se sia fuori luogo in questo contesto, spero che non lo sia, perché abbiamo avuto bisogno di utilizzare questo termine sottraendolo a un dizionario estero, perché non potevamo parlare di nuove imprese innovative, le imprese ci sono sempre state da quando il sistema economico è fondato sul capitalismo, ci sono sempre state quindi le nuove imprese e ci sono a volte state delle imprese capaci di introdurre delle innovazioni, le nuove imprese innovative. Allora perché usare questo termine? Io personalmente credo che la parola start-up sia utile, sia necessaria, perché incarna alcuni messaggi caratteristici di questo fenomeno, questo fenomeno che ha una natura globale, tanto che appunto è atterrato alle Nazioni Unite, e che sintetizzerei in questi cinque punti. Le start-up sono diverse dalle nuove imprese innovative di una volta, perché aspirano a scalare rapidamente e hanno una forte vocazione internazionale, quindi non si accontentano di attestarsi in una nicchia, non si accontentano di una rendita di imposizione, di assestarsi su una fetta di mercato locale. forte vocazione internazionale, aspirazione a scalare in fretta, focus sull'innovazione tecnologica, terza caratteristica. Quarta caratteristica sono composte, tutte queste caratteristiche sono genetiche, cioè sono connaturate nelle start-up sin da quando sono in culla. Quarta caratteristica hanno come asset principale il team che è composto da persone che molto spesso hanno dei background molto eterogenei, dal punto di vista sia accademico che professionale. Quindi c'è l'umanista, con l'economista, con l'ingegnere aero-spaziale o informatico, ci sono veramente delle squadre di persone molto eterogenee che si aggregano per perseguire un fine comune che è quello di fare impresa. Quinta caratteristica, non esiste una start-up di successo se non è contorniata da un ecosistema enabling abilitante, cioè formato da tutta una serie di attori, acceleratori, incubatori, mercato dei capitali di rischio, mondo accademico, che funzionano e che sono sinergici. Quindi, tre anni fa, vi ricordate che l'Italia era sull'orlo di una crisi finanziaria, eravamo un po' nei pasticci, lo siamo tuttora, il tasso di disoccupazione giovanile è 42%, ce lo ricorda ogni mese, però, insomma, forse il peggio è passato, ma al di là di questo, quello che voglio dire è che forse c'era un'altra emergenza che avevamo bisogno di risolvere e che abbiamo pensato di risolvere al Ministero dello Sviluppo Economico, che era quella di una mancanza, una lacuna di strategia nazionale per sostenere questo tipo di fenomeno, le nuove imprese innovative e tecnologiche. Cioè, noi non avevamo la regia chiara, era un fenomeno che stava crescendo in modo sparpagliato, del tutto spontaneo, all'interno del nostro tessuto imprenditoriale, ma che non aveva coscienza di sé, che non era riconosciuto e che non era sostenuto adeguatamente. Ha bisogno di essere sostenuto, perché stiamo parlando di imprese altamente innovative e altamente rischiose, quindi. Perché è importante sostenere questi animali strani, questi animali imprenditoriali strani? Cito solo, forse non ce n'è bisogno in questo contesto, lo faccio rapidamente, cito The New Geography of Jobs, di Moretti, che parla di un moltiplicatore di occupazione pari a 5, cioè per ogni nuovo posto di lavoro in un'industria high tech si creano a cascata 5 nuovi posti di lavoro nei settori correlati, mentre questo moltiplicatore era tre volte inferiore, cioè pari a 1,6, nelle industrie tradizionali, quindi le start-up innovative possono avere degli effetti incrementali sulla creazione di occupazione, e Dio solo sa quanto ne abbiamo bisogno in Italia, possono essere importanti anche per la competitività, cioè un'impresa tradizionale può servirsi di una nuova impresa innovativa dello stesso settore per innescare un'innovazione di prodotto di processo nella propria area di competenza, e il nostro tessuto economico ha anch'esso molto bisogno di ripensarsi e riprendere a cavalcare l'innovazione dopo che forse per alcuni anni si è un po' accontentato del successo che aveva raggiunto. Quindi ci sono, e poi ci sono degli altri messaggi, c'è quello di, penso che sia molto ricorrente in queste stanze, quello di cercare di ridurre il gap tra il mondo accademico e il mondo imprenditoriale, quello di favorire la mobilità sociale, cioè far sì che non diventino imprenditori solamente persone che hanno un background imprenditoriale in famiglia, ma anche persone che altrimenti non avrebbero considerato il percorso imprenditoriale, come per esempio dei ricercatori, che tradizionalmente sono un po' lontani da quel mondo. Non che l'imprenditoria sia l'unica soluzione per il problema dell'occupazione giovanile, però può essere una soluzione e va prospettata così come altre. Ok, questo era perché è importante sostenerlo, ho cercato di spiegare a parole mie che cosa sono le start-up rispetto alle industrie tradizionali e ora veniamo al cosa fa il governo. Il governo ha tracciato una definizione, ha preso quelle cinque caratteristiche di cui ho parlato prima, ha cercato di tradurre l'innorme, un compito molto ingrato e le abbiamo definite così. Sono imprese, sono società di capitali, nuove o con meno di cinque anni, che non distribuiscono gli utili, non quotate e con meno di cinque milioni di fatturato. Mi fermo un attimo, ci sono altri due requisiti poi. Questi requisiti che cosa ci dicono? Che stiamo parlando di start-up, cioè di nuove imprese in una fase di avvio. Quindi ci sono dei criteri dimensionali anagrafici, nuove con meno di cinque anni. Vado avanti, riprendo, l'altra caratteristica tipica è che devono essere innovative, cioè devono afferire all'innovazione tecnologica e qui si apre un disastro. Perché come si fa a definire l'innovazione tecnologica? Noi abbiamo dato questa risposta, probabilmente non è la possibile, la migliore possibile, però c'è una risposta e ci sembra che il mercato stia seguendo questa definizione che noi abbiamo dato. Cioè quando si crea una nuova start-up in Italia, adesso, segue abbastanza le orme di questa definizione. Cioè, deve avere come oggetto sociale, cioè quella professione di fede con la quale una nuova impresa si identifica al momento della registrazione nel registro dell'impresa, deve autodefinirsi come impresa che sviluppa, commercializza beni e servizi innovativi ad alto valore tecnologico, poi è lasciata all'intelligenza, alla buona fede e alle capacità cognitive dell'interprete, cioè della guardia di finanza quando fa i controlli esposti, adesso ci arrivo, o della camera di commercio capire se l'impresa in questione è o no inclusa all'interno di questo fenomeno, cioè della produzione, sviluppo e commercializzazione di beni e servizi innovativi ad alto valore tecnologico, in più per corroborare questo concetto di innovazione tecnologica deve soddisfare almeno uno dei seguenti tre. Il maggiore tra costi e ricavi annui deve essere attribuibile a attività di ricerca e sviluppo, oppure due terzi del team composti da persone con laurea magistrale, o un terzo composto da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure deve essere proprietario e licenziatario di una proprietà intellettuale, brevetto, privativa o software registrato. Se soddisfa queste caratteristiche cosa succede? Succede che io, founder di una start-up o di una wannabe start-up, prendo uno statuto standard, autocertifico il rispetto di questi requisiti, firmo questo statuto standard con firma digitale, questa è una novità introdotta con l'investment compact, una cosa di un mese fa, in realtà sto parlando un po', dovrei parlare condizionale perché è una cosa che diventerà operativa tra un mesetto circa, perché lo statuto standard è in corso di redazione nei nostri uffici, però tra un mese succederà questo, cioè che io potrò firmare con firma digitale questo statuto standard nel quale autocertifico il rispetto di quei requisiti, in questo modo mi registro senza oneri notariali e online e velocemente a una sezione speciale del registro delle imprese, piccola postilla, la sezione speciale del registro delle imprese è disponibile al seguente sito startup.registroimprese.it viene aggiornata, potesse succedere anche qualsiasi cosa, Infocamera lo fa, ogni lunedì mattina alle 9 ci sono i dati aggiornati che dicono dove sono le startup innovative, quante sono, in quale settore operano, quanti sono indipendenti, qual è il fatturato e qual è il sito internet di riferimento. Cascasse il mondo ogni lunedì mattina c'è un refresh di questi dati. Quindi io entro in questa sezione speciale chi controlla che non abbia fatto il furbo è esposto alla guardia di finanza. Bene, da quel momento in poi godo di una serie di vantaggi che vanno ad aggredire alcuni colli di bottiglia che tipicamente frenano il fare imprese in Italia. Quali sono questi colli di bottiglia? Li conosciamo tutti, la burocrazia, alcune rigidità nella gestione societaria, alcune rigidità nella disciplina del lavoro, la difficoltà nell'accesso al credito, la difficoltà nell'accesso alla finanza, eccetera, eccetera. Cosa abbiamo fatto? Le elenco rapidamente. Sono esonerate da diritti di segreteria imposte di bollo ogni volta che registrano un atto in Camera di Commercio. Tanti piccoli oneri che però sono una spina nel fianco dell'imprenditore che magari fa ricerca e sviluppo e non ha ancora fatturato. Non pagano diritti annuali di segreteria alla Camera di Commercio. Sono facilitate nelle compensazioni orizzontali IVA fino a 50.000 euro. Questa è un'altra novità molto recente. possono attribuire diritti di voto non proporzionali all'apporto di capitale. Quindi il creativo che magari è decisivo nello sviluppo delle start-up però non ha il capitale non ha una quota ingente di capitale può partecipare in modo più che proporzionale ai processi decisionali. Cosa molto interessante dal punto di vista della gestione societaria. Sono esonerate dalla disciplina del fallimento. Sono società infallibili. Cioè si è pensato dato il paradigma culturale tipico del nostro paese che stigmatizza come un fallito chi fallisce cosa sbagliata perché chi fallisce è una persona che ci ha provato e deve essere messa nelle condizioni di ripartire in fretta perché ha maturato un bagaglio esperienziale e questa esperienza può essere messa a frutto. Sono esonerate dalla disciplina standard del fallimento e possono ripartire senza oneri reputazionali e finanziari. Questo per quanto riguarda la gestione societaria ci sarebbero alcune altre cose ma non sto a annoiarvi ulteriormente. Disciplina del lavoro. Possono assumere personale con contratti a tempo determinato rinnovabili senza soluzione di continuità per tutto il ciclo di start up che abbiamo detto dura 5 anni contratti della durata minima di 6 mesi massima di 12 poi necessariamente al termine dello scadere dello status di start up innovativa questi contratti si devono trasformare in contratti a tempo indeterminato. Come possono remunerare i dipendenti con le modalità più tradizionali o anche con modalità più moderne per esempio fatto salvo un minimo garantito per legge possono ancorare parte del salario a dinamiche flessibili per esempio legate al raggiungimento di alcuni obiettivi aziendali in particolare possono conferire strumenti di capitale quindi stock option o schemi di work for equity sia a dipendenti che a collaboratori esterni e questi strumenti di capitali sono esonerati dall'imposizione sul reddito e dai contributi fondamentalmente sono soggetti cioè solamente al capital gain all'imposizione sul capital gain quindi sono gli strumenti particolarmente interessanti perché permettono alle start up di remunerare i dipendenti in un momento in cui magari non hanno liquidità perché fanno tanti investimenti devono ancora iniziare a fatturare oppure magari possono essere utili per fidelizzare dei consulenti esterni e richiamarli in azienda responsabilizzarli al rischio aziendale dando loro parte del capitale parliamo di finanza che è la cosa che risveglia sempre a tutti quando inizio a fare il brainwashing su queste cose tre cose uno siamo stati il primo paese al mondo che vi piaccia o meno che voi crediate o no che quello che vi sto dicendo è vero poi ci arriviamo sulla verità di tutto questo o sulla simpatia o antipatia che vi posso esprimere rimarrà comunque nella storia il fatto che siamo stati il primo paese al mondo a regolamentare l'equity crowdfunding con un regolamento ad hoc l'equity crowdfunding cos'è? niente meno che la possibilità di raccogliere capitali sfruttando piattaforme online autorizzate cioè io carico online su una piattaforma autorizzata da Consob il mio business model cerco in questo modo di sedurre tanti investitori tanti risparmiatori diffusi per investimenti anche di piccolo taglio ma auspicabilmente la somma di questi tanti piccoli investimenti può generare un afflusso ingente di capitale nella mia impresa che le permette insomma di crescere crowdfunding non donazioni ma investimenti in capitali diventano soci siamo stati il primo paese del mondo a regolamentare questo fenomeno ne avete mai sentito parlare sui media sul tg1 io no ahimè e ahimè però si è parlato tanto di legge elettorale in questi mesi quello sì poi seconda cosa fondo di garanzia per sostenere il credito bancario il fondo di garanzia esiste dal 15 mi sto avviando la conclusione quindi non temete per la vostra incolumita mentale il fondo di garanzia copre l'80% dei crediti che le banche danno alle start up come lo fa gratuitamente contrariamente a quanto viene fatto relativamente alle altre aziende e lo fa senza ulteriore due diligence rispetto a quella fatta dalla banca quindi io busso la porta della banca e dico banca guarda che se tu rischi il 20% ti accolli solo questo rischio poi arriva il fondo che si che copre il restante 80% sta funzionando questo faccio uno step forward si sta funzionando molto bene a differenza dell'equity crowdfunding che invece sta un po' barcollando ancora non è ben radicato probabilmente per problemi di ricettività culturale degli investitori italiani dei risparmatori italiani il fondo di garanzia sta tirando alla grande sono stati prestati 145 milioni a beneficio di più di 320 start up nel giro degli ultimi 15 mesi questi però sono dati di un mese fa sono un po' vecchiotti questo significa in breve che sono stati prestati in media 450 mila euro da banche a start up grazie alla garanzia pubblica sono numeri che iniziano ad essere abbastanza interessanti a formare una massa critica e non è più un fenomeno di nicchia che riguarda l'un per un milione delle imprese italiane terzo strumento abbiamo detto equity crowdfunding fondo di garanzia terzo strumento è gli incentivi fiscali agli investimenti in start up sono una persona fisica per esempio un business angel una persona giuridica per esempio una società di venture capital investo in una start up innovativa godo nel primo caso di una detrazione fiscale fino al 25% nel secondo caso di una deduzione dell'imponibile IRES fino al 27% e questo ci colloca abbastanza in prima linea in Europa nell'ambito dei sistemi più favorevoli agli investimenti in venture capital investimenti in mercato che è ancora abbastanza ridotto nel nostro paese ai noi basta questo è quanto le altre tre cose e le cito veramente al volo che dovete sapere sono che l'80% di quello che vi ho raccontato si applica dal 24 dal 24 marzo cioè dalla data di conversione in legge dell'investment compact anche a un'altra categoria di imprese e cioè le piccole e medie imprese innovative che cosa sono? vi ricordate forse di quei tre criteri che vi ho raccontato prima con percentuali un po' più abbassate se ne soddisfano due su tre indipendentemente dalla loro età anagrafica possono avere anche 20 anni quindi piccole e medie imprese innovative non necessariamente in fase di start up che abbiano una connotazione di innovazione tecnologica godono possono raccogliere capitale con l'equity crowdfunding godere dell'intervento di fondo di garanzia chi investe in loro agli incentivi fiscali nell'investimento eccetera eccetera ok quindi si apre una platea molto più elevata perché la platea delle start up comunque è destinata a rimanere di nicchia quante sono ad oggi? 3.750 nel giro di 24 mesi se ne sono create 3.750 per un incremento medio settimanale di 40 elementi occupano circa 17.000 persone in Italia di cui 15.000 soci 2.000 3.000 dipendenti quindi si lavora tipicamente sotto forma di socio in start up e non di dipendente per parlare di numeri si applica adesso potenzialmente una platea molto più ampia quella delle piccole medie imprese innovative altri due assist finali il primo è l'articolo 1.35 della legge di stabilità e del nuovo regime dei crediti d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo questo è dannatamente interessante perché copre questo credito d'imposta è il 25% dell'incrementale cioè dell'in più che si fa rispetto alla media dei tre anni precedenti per spese superiori a 30.000 euro in attività di ricerca e sviluppo ma l'aliquota sale al 50% quindi lo Stato finanzia il 50% con credito d'imposta dell'incrementale nel caso in cui la spesa riguardi o l'assunzione di personale altamente qualificato oppure un'attività di ricerca e sviluppo che viene fatta in outsourcing cioè viene affidata a terzi per esempio a chi? a startup innovative o a spin off universitari o a centri di ricerca questo per raggiungere quell'obiettivo di ridurre il gap tra mondo dell'accademia mondo della ricerca e mondo dell'impresa ultimo strumento ho parlato di articolo 1,35 dove c'è questo credito d'imposta della legge di stabilità 2015 ai commi successivi quindi 37 seguenti se non erro c'è il patent box patent box sarebbe una defiscalizzazione dei redditi derivanti da proprietà intellettuale credo che sia una cosa che può incuriosirvi però su questo non voglio tediarvi credo di aver concluso se avete domande sono a disposizione ancora per una mezz'ora poi devo filare via grazie buongiorno sono Francesco Matteucci il collega di Roberto Gianantonio quell'altra persona che ha lasciato l'impresa per provare a lavorare in un distretto tecnologico quindi in un intermediario della conoscenza ho fatto anch'io tanti anni al CNR un po' all'estero poi in impresa ho fatto start up ho fatto fallire delle start up ho fatto tutto quello che abbiamo discusso oggi in male per cui cerchiamo di migliorarlo vi ringrazio tutti di essere ancora qui e cercheremo di rendere questa mezz'ora tre quarti d'ora diciamo in linea con quello che si è detto oggi io mi avvicino a prendere il foglio degli appunti dove mi sono segnato le varie cose da stimolare che per farlo la parola che abbiamo sentito nominare oggi almeno cento volte ho fatto un po' di clic è la parola ecosistema dell'innovazione abbiamo sentito parlare di open innovation ma diciamo il tema della giornata senz'altro è ecosistema dell'innovazione ce l'hanno spiegato ricercatori manager finanziari chi parla di Vildanaro tutti quanti e la domanda che mi pongo dal 1999 è cosa vuol dire fare innovazione le risposte sono mille si trovano su internet sui libri da scienziati non scienziati la logica è stato molto interessante quello che ha detto oggi il dottor Lonardi la prima intervento quando si parlava della terza missione del CNR per quanto mi riguarda innovazione vuol dire fare star meglio la gente aumentare il benessere e l'incontro di oggi pomeriggio mi piacerebbe se le persone che sono qui seduti da questa parte dall'altra del tavolo alla fine raggiungessero un passaggio in avanti cioè il prossimo passaggio potrebbe essere un'azione concreta siamo dentro all'ente di ricerca che si occupa di ricerca con il maggior numero di cervelli in Italia quindi siamo nella culla per quanto riguarda il triangolo della conoscenza siamo nella culla della ricerca siamo nell'aula Marconi e abbiamo sentito parlare più o meno da tutti i punti di vista di ecosistema dell'innovazione abbiamo visto l'ultimo intervento del dottor Corbetta che una cosa che noi spesso noi italiani ci vergogniamo di dire abbiamo fatto anche qualcosa prima degli altri il discorso dell'equity crowdfunding poi per quanto riguarda magari la defiscalizzazione dei venture capitalist in Francia daranno il 30 al 40 in Italia il 25 però intanto oggi qui il CNR ha portato un venture capitalist in carne e ossa Alessio Beverina poi ci ha portato il professor Fresa un esempio raramente virtuoso di uno che dice dopo 19 anni e 6 mesi ho lasciato il posto fisso all'università io ho fatto l'imprenditore è stato nominato oggi l'entrepreneurship european plan dove la prima cosa che si dice è che bisogna aumentare l'idea che fare impresa vuol dire fare bene perché alla fine chi fa impresa se lo fa legalmente va a far star meglio la gente va a star da lavorare eccetera bene allora inizierebbe da chiedersi e la prima domanda che faccio all'ingegnere Beverina provocatoriamente la seguente è dopo che oggi ha sentito parlare tantissime persone ricercatori eccetera dal punto di vista di un venture capitalist come il vostro innovativo eccetera che cos'è che effettivamente vedrebbe come il prossimo passaggio nel senso ci ha fatto vedere un elenco di enti di ricerca pubblici o privati con cui voi avete delle collaborazioni in atto per quanto riguarda una potenziale interesse da parte sua venire a chiedere a un cnr o un istituto o un dipartimento se vogliono stringere una cosa del genere a prescindere dal regolamento ovviamente della proprietà intellettuale del cnr quali sono le azioni concrete che lei avrebbe bisogno di fare materialmente ha detto noi ci interfacciamo con i ricercatori come funziona questo processo operativamente per andare nel pratico se uscito da di qui un ricercatore o un direttore di un istituto o un direttore di un dipartimento volesse interfacciarsi con un fondo di investimenti come il vostro avere una sorta di accordo di mentoring di tutto che cosa dovrebbe operativamente fare molto semplice oggi siamo andati noi alla ricerca degli accordi con quegli istituti che facevo riferimento con altri c'è stato un dialogo il dialogo ha fatto sì che le persone si sono apprezzate ci siamo capiti soprattutto c'è stata un'intesa su cui era il bisogno di uno dell'altro e spero prossimamente di aggiungerne tre o quattro quindi l'idea di base c'era il mio mail al fondo della mia presentazione scrivete un mail mi spiegate esattamente cosa fate chiaramente noi abbiamo un sacco di tempo o zero tempo mi scrivete un mail mi spiegate perché la vostra ricerca può essere una start up o il vostro incubatore può essere interessante perché io lo vada a trovare sono andato a Trento sono andato a Lecce sono andato a Napoli direi un treno oggi con la super velocità è là quindi scrivetemi un mail alessio.beverina at panachas.it spiegandomi esattamente che cosa avete in mente e poi ci vediamo prima quando c'era Roberto Gianantonio che presentava ero in discussione fuori al telefono con un ospedale e dico bene un ospedale con cui sto facendo un accordo grazie è un animale un po' strano l'ospedale abbiamo sentito parlare prima il professor Frezza per quanto riguarda M31 che mi sembra visto che io ho il cappello del Ditec che è un intermediario della conoscenza pubblico privato che M31 sia in qualche modo un intermediario all'imprenditorialità privata questo è una sbagliata sicuramente definizione però così me la sono appuntata e la domanda è dopo otto anni che lei ha detto aver lasciato l'università di Padova il motivo principale per cui lei alla sera si va a letto dicendo ai suoi figli o ai suoi amici che è soddisfatto è ragionevole che sia la sua passione o è più anche la passione che le trasmettono le persone con cui collabora la crescita delle imprese che partecipiamo quando assumono persone la speranza di andare a letto con meno problemi e con più risultati perché molto spesso quando una va male conta molto di più delle sei che vanno bene perché deve risolvere problemi ma per il resto direi che la passione continua quando qui è quel gioco strano tra il fatto che sei sempre impiccato con la cassa e dall'altra parte vedi un incredibile valore costruirsi una volta che la prima impresa che abbiamo costruito Centerview è partita nel 2008 una volta l'amministratore delegato di Centerview mi ha chiamato e ha detto ah incredibile ho più di un milione in cassa perché l'ho cominciato a vendere era tutto contento perché dopo quattro anni di sofferenza pazzesca ho un milione in cassa e la risposta che ha ricevuto è stata male dovevi investirli e allora è stato molto male per il rischio di entrare in comfort zone no la grande soddisfazione è quella lì è quella proprio di continuare a vedere queste imprese crescere oggi danno lavoro a più di 250 persone quindi quella è la soddisfazione se poi li moltiplichiamo per 5 sono 1250 quindi sono tante le persone non sono poche aggiungo una cosa prima io parlavo di orgoglio del ricercatore che crea la società ma quando parlate con la gente come noi siamo esattamente uguali quando c'è il CEO che ti chiama e gli dice sono riuscito ad avere un meeting con Apple wow fantastico siamo orgogliosi contenti ne parliamo nelle nostre cene mondane eccetera eccetera è la cosa che ci fa più orgogliosi chiaramente il successo il fatto che assumino che passino da due impiegati a 50 100 200 che diventano successi è la cosa che ci fa più divertire che ci appassiona il nostro lavoro assolutamente è la cosa fondamentale del nostro lavoro perché se calcolate che nel 90% dei casi il venture capital lavora sui problemi quando c'è il problema di cassa quando c'è il problema di management quando c'è il problema di litigio tra fondatori vi assicuro che ce ne sono sempre quando la società va bene per noi è super contento un altro dato sul mio passato di Sofinova negli ultimi vent'anni Sofinova ha creato 6.722 impieghi finanziando start up quindi l'innovazione crea lavoro come ha raccontato prima il dottor Corbetta non so se avete avuto il piacere di leggere il libro di Moretti questo libro sulla nuova geografia del mondo del lavoro ho letto su internet una cosa divertente che non so se sia vera che Moretti un giorno ha ricevuto una telefonata è professore alla Harvard University ed era la segretaria di Obama alla prima volta ha messo giù alla seconda volta ha messo giù la terza volta che questa continuava a dire sulla segretaria di Obama forse era vero e adesso lui è uno corregimi se sbaglio ma è uno dei consulenti per quanto riguarda Obama ho letto su internet appunto allo sviluppo di lavoro quindi diciamo una sorta di ministero del lavoro allora voglio chiedere al dottore Scoffier visto che prima ha fatto una presentazione a cui Mattia purtroppo non ha potuto assistere ma magari conosce dal punto di vista pratico un sito come il vostro di che cosa campa? cioè operativamente anche voi vi ponete come intermediari della conoscenza cercate di valorizzare di mettere insieme e quando mettete a punto queste challenges eccetera com'è che il meccanismo autofinanzia o finanzia voi i fondatori ottima domanda ovviamente dobbiamo anche noi portare a casa una pagnotta e quindi le aziende o gli enti governativi enti pubblici che hanno intenzione di creare una challenge ovviamente devono darci un obolo affinché noi si possa sopravvivere e si possa avere la forza di promuovere le attività quello che abbiamo creato però a differenza dei nostri amici nordamericani abbiamo creato una serie di uno schema matriciale di tariffe che va praticamente a beneficiare i piccoli quindi tanto sei piccolo meno paghi che invece non è applicato dai nostri amici statunitensi e un'altra domanda lei ha parlato che ha fatto un report per il Giappone per quanto riguarda i technology transfer in Giappone giusto? e operativamente questo incarico è una cosa che lei come sua esperienza personale visto che alla sua sinistra c'è adesso il ministero di sviluppo economico è una cosa che è già stata fatta in Italia esiste c'è una logica di dialogo tra lei che è italiana è una start up in Italia e il ministero di sviluppo economico come funzionano queste logiche attualmente in Italia? I have no idea c'è? beh no no perché non so se ci sono documenti nella logica di fare una tavola aperta a parte il NETVAL che è l'ente deputato diciamo a livello nazionale nel nel monitorare le attività di trasferimento tecnologico dell'università sicuramente il NETVAL sì però non fa parte del MISE è un'altra entità ok stavo per chiedere infatti c'è il dottor Fuagli stavo per rifare una domanda era anche questa molte avanzazioni sono passate da voi in questi anni ma non sono tutti i cittadini ok in Italia sono riservate diciamo ok per parlare appunto con il dottor Fuagli come relatori ma ovviamente la tavola quando qualcuno ha una domanda da fare alza la mano e sono ben contento di tacere se no come sa Roberto io continuo a parlare all'infinito e operativamente quando lei oggi ha parlato di dati mi è rimasta una cosa impressa non per partire alla critica però lei ha detto il fra un offer come il CNR operativamente sappiamo che è il Max Plan come il CNR perché il fra un offer ha il 50% di capitale gestito detenuto dall'industria e una cosa che le voglio chiedere come ha detto non mi ricordo prima ma credo l'ingegner Fresa in Italia 7 milioni di euro è il budget complessivo di tutti gli uffici di technology transfer pubblici sommati insieme qualche giorno fa mi è successo di parlare con un collega che opera come molti di voi in un ente pubblico di ricerca e ha detto no ma puoi chiamare il technology transfer per curiosità quante persone sono noi siamo mille ricercatori abbiamo un technology transfer di ben quattro persone cioè voi immaginate un'azienda commerciale di mille dipendenti qualunque cosa venda è credo impossibile che abbia solo quattro commerciali usando la parola apposta commerciali perché si fanno soldi vendendo anche diciamo le idee breve quando questa mattina ha parlato dottor Silvani che non so non so se è ancora presente come ecco il dottor Silvani ha fatto secondo me un intervento al di là dell'interessante credo molto aperto e credo che il risultato possa essere il CNR non può fare tutto soprattutto con le forze in campo e il budget attualmente a supporto di questo adesso arriva la domanda operativamente giù come Ditec giù nel senso a Lecce abbiamo avuto per due anni un finanziamento europeo che finirà il 26 di maggio per formare circa una settantina di persone di cui sette nel settore della nanotecnologia per diventare ingegneri imprenditori innovatori un termine molto sontuoso dove però alla fine diversi di questi stanno fondando del loro start up altri avranno un percorso ragionevolmente nel settore della gestione dell'innovazione per lei come professionista è qualche capello bianco questo è un mestiere che ad oggi ha senso cercare di perseguire e se questo è sensato perseguirlo qual è la formazione che lei pensa sia necessaria avere c'è stata un'iniziativa dell'agenzia nazionale per l'innovazione 5-6 anni fa in cui io sono stato uno dei co-docenti siamo stati in una policina di scuola di nuovo abbiamo fatto uno spagliato un'attore di docenza di attenzione al trasferimento dei cronologici di tutti i posti immaginati in Italia sono passati in una università c'è invece tantissime persone sembrava un'iniziativa valida almeno per creare un comune dominatore una procenza di tutto di quello che è questo mondo la cosa è stata poi bruscamente interrotta e ha avuto un'utilità come l'ecolo diciamo perché ci conosciamo che sono persone che sono persone persone che sono parteggiate nei vari uffici l'impressione è che non serva un sovradimensionamento della struttura di trasferimento tecnologico di gestione e perché quanto spesso non c'è neanche il volume di lavoro per gli stiti c'è una modificazione di due di studenti di persone che hanno una parte stradale un po' frustrate perché non hanno i mezzi da ragione dell'obiettivo e che avendo una quantità limitata di progetti da seguire in settore di rassegno non possono avere niente darsi necessario efficiente da cui ci saranno un po' che daranno più progetti da seguire e resteranno un'importante di come interfaccia con i ricercatori noi per esempio lavoriamo molto bene con il CEDER con il CEDER di Milano perché il Milano ha uno stato di 6 persone nel tempo pieno per il mio sperimentico tecnologico e c'è tutta una revisione di compiti e una collaborazione che consente di mangiare il sistema ok posso posso lo so chiaro bene su questo sì credo che l'unica cosa che dimmi lo scelto dell'organizzazione che sia il budget perché i progetti si influenzano c'è un esempio come quello che mi ha dato prima cioè io me ne vengo tra Piemonte ma io ci sono in un mondo perfettamente sconosciuto quindi nessuna conoscenza della tecnologia della storia delle persone niente nei perché mesi cosa abbiamo fatto per la nostra indola e la nostra esperienza abbiamo questi unico progetti piccoli medi grossi di un tipo o di un altro fondamentalmente esclusivamente limitati la base e la disposizione perché avessimo avuto più risorse e se avessero più risorse potremmo fare certamente molto di più con la certezza che i progetti non ce li consegnerà nessuno ma ci diventiamo noi perché il re-imper-limiting step del processo di valorizzazione è la disponibilità di competenze del portafoglio tecnologico che però non è mai questo punto il bacino di competenze come dicevo anche prima adesso vedrei anche altri e del portafoglio tecnologico oggi non è il re-imper-limiting step tant'è che sono i venditori di venture che se ne regolano guarda e quindi se mai chiudo limite e budget no strumenti budget è un elemento chiaro è unico che conoscono due realtà con i due vicini nel progettore tecnico che possa essere analisi che possa essere conosco e la identità del minds man in dire e conosco il questo che ha in grande oscron ha un budget di 7 milioni di scartine in cui in realtà è pagato l'università di oscron che non avrebbe finanziato l'analisi simile che abbiamo fatto qualcosa che ha avuto un frontissimo finanziamento pubblico che ha portato a volare al resto comunque un 50% non ora non sono 15 però questo fa senso perché se uno poi si soliti attraverso questi soldi si crea valore per un socio restiamo un po' per dire addirittura a viena che è 65 anni io ho avuto il piacere di lavorare con loro e di cercare di comprare i loro valenti arrivato all'assunto che io sono avvicinato con un valutino per comprare 5 loro valenti ho potuto organizzare un milione di dollari valutino di pausa scusami ma noi non parliamo di comprare un milione perché abbiamo una cosa più importante cosa hanno fatto con ceduto in una rete di 5 diventore e hanno trattato con i diventori perché loro hanno qualcosa che è già via e poi i soldi hanno avuto pochissimi tra le poche si risorse 80% dell'euro un'altra economica di un progetto che è importante per essere un progetto per il ritorno del progetto che avviso prima che ripasa dal 23 può fare domande si ecco lì si c'è 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 poi un'ultima cosa che dicevo stamattina se si finanzia pochi progetti in modo estensivo a me che lo prendono soprattutto e quando si posiziona la propria che sia in aziende una base o del milionale o quando c'è una proposta di consolidata per questo processo cioè differenza di tempi che costano se c'è l'importanza dei domande di un'interesse da parte dell'azienda che si dicevano che l'industria dice bellissimo però non è un prodotto bellissime incentivazione alle start-up tecnologiche mi è piaciuto molto il discorso del fabbimento che è una cosa che possiamo dire in Stati Uniti e soprattutto dire in Israele in Italia attenzione quello che manca quando risolte per l'Italia di rischio è investire in un'azienda in un'azienda sono inventori ma non sono imprenditori tecnologici perché c'è anche un aspetto culturale in Italia che è trovato spesso per un modo in modo decine di imprenditori che propongono di tutto c'è una tendenza a investire con i soldi del premio ma c'è sempre che mette i soldi con uno che rischia proprio senza volo in Italia c'è un'azienda di risposta arrivo questo è il punto di la differenza di classe tra l'Italia e la mezza non è pensato a un rischio di tre mesi lì gli investitori investono il fatto che ha fallito almeno due volte perché chi ha fallito sa cosa vuol dire come portare una start-up a successo quindi c'è il fallimento è un'esperienza di vita che ti fa comprendere dove è sbagliato infatti qua come diciamo Alessio Berlino portava un timo è fatto non solo dal generatore ma deve essere affiaccato soprattutto dall'arbit al manager quello che conduce a portare la terza prodotto in prodotto perché il prodotto l'idea è vero il costo di zero quindi diciamo la mentalità anglosassone infatti è quella del fallimento fa esperienza non fa reato penale hai fatto qualcosa che purtroppo non avevi l'esperienza con fortuna per portarla a termine la prossima volta sai dove è peccato quindi c'è subito prima l'engagio e qui ricorda diciamo le opportunità che si sono presentate manifestate sì posso volevo solo dire una cosa in risposta a quello io spero solo una cosa che questo mondo delle start up e delle politiche pubbliche veramente un messaggio spero importante che il mondo delle start up e delle politiche pubbliche a sostegno delle start up non venga percepito in questo ambiente come una forma di concorrenza cioè questo non esime lo Stato dall'obbligo dal dovere morale verso i propri cittadini di investire in ricerca e sviluppo il nostro Stato ha abdicato in buona parte negli ultimi anni da questo suo dovere e questo non ci esime dall'essere cioè non ci obbliga comunque a essere critici nei suoi confronti forse altra parte dell'amministrazione che si occupa di altri temi come l'imprenditoria ha fatto delle cose buone che possono essere sfruttate possono rappresentare una leva per i processi di trasferimento tecnologico nel mercato ma non vorrei che questo investimento fatto dallo Stato fosse percepito come una forma di sottrazione di risorse dall'altro fronte dall'altro frangente che è quello dell'investimento di ricerca a proposito di libri prima ne ho citato uno ne cito un altro forse non piacerà tanto a lui e non ne prendo non ne assorbo i messaggi nella parte in cui si parla male dei venture capitalist però c'è lo stato innovatore della del Mazzucato in cui appunto dopo anni si torna a parlare della necessità del dovere storico che gli stati hanno verso i propri cittadini di finanziare la ricerca e sviluppo e dei policy maker di per inciso Maria Mazzucato aveva ricevuto l'invito dal CNR per intervenire oggi via Skype ma non è potuto intervenire il CNR conosce lì dovevi parlare tu Luca una cosa al volissimo io dal 2008 al 2010 erano negli Stati Uniti all'università di Washington che ha il più grande ufficio di trasferimento tecnologico negli Stati Uniti quindi probabilmente uno dei più grandi al mondo sono 67 68 persone e devo dire che una delle grandi differenze allora giusto per darvi due numeri per contestualizzare nel 2012 gli Stati Uniti dei 186 respondents alla survey che ha fatto la UTM hanno dichiarato 2,6 miliardi di dollari di revenues in termini di licensing è vero che ci sono tanti soldi che partono dalla ricerca e dopo ovviamente diventano tecnologie e dopo brevetti dopo licenze eccetera però allora innanzitutto dal punto di vista accademico negli Stati Uniti chi lavora nel centro di interesse di unito tecnologico ha un background che è assolutamente sconosciuto nel resto del mondo perché proprio per il tipo di formazione ad esempio la laurea in giurisprudenza negli Stati Uniti è un graduate degree quindi ci sono tantissime persone che prendono un degree in chemistry in physics in biology e dopo vanno alla scuola di legge e dopo di questo vanno anche all'NBA quindi tu ti trovi davanti a una persona che ha 30 anni e dirai non ha mai lavorato forse non ha mai lavorato si è molto applicata quando ha studiato ha 30 anni però sa di finanza sa di diritto e sa di biologia quindi quando gli scienziati quando i ricercatori vanno a parlare con queste persone all'interno del dipartimento dell'ufficio di trasferimento tecnologico hanno dei soggetti che sono a interagire a tutto tondo seconda cosa è che potreste di cui potreste beneficiare anche voi ad esempio ci sono delle figure che vengono chiamate EIRs entrepreneurs in residence che sono soggetti come Alessio per esempio ad esempio l'università di Washington ogni venerdì ha un VC che va per tre ore all'ufficio del trasferimento tecnologico e va a parlare con i ricercatori e quindi va a ascoltare le loro idee se ci sono già dei brevetti ben venga se non ci sono brevetti sono solo idee comunque li va a ascoltare e lo fa infatti oggi quello che è stato molto interessante non so se c'è ancora il dottor Taylor quando ha raccontato come l'area l'area Science Park ha fatto questo progetto questo open lab e è stato molto interessante l'intervento del dottor mi sono dimenticato per quanto riguarda la parte dell'espri un sapere che probabilmente il CNR sta cercando e dovrà sfruttare sempre di più è quello che ci sono fondi europei lei oggi ha detto poi dopo le lascio la parola ha detto ci sono possibilità di avere nelle aree della scienza come può essere quello di Bologna o grandi istituti possono iniziare a capire come potrebbe funzionare un finanziamento da parte dell'espri per quanto riguarda il settore dell'innovazione questo immagino il progetto dell'open lab di cui ci ha parlato oggi dottor Taylor rientri nell'ambito dei finanziamenti dell'espri o sbaglio ok si ok io volevo fare una domanda la domanda è quella di cercare di definire meglio un ruolo di intermedia che mi sembra associato innanzitutto devo dire che tu ho visto diciamo tutta una serie di differenti ruoli di intermedia insomma in tappi all'anno mi sembra molto validi e dico probabilmente anche molto validi perché sono validi quindi cross-de-driven nel senso se la voli ma è la netta da un'opera se la voli ma è la quindi diciamo la data è automatica sul cross-de-da-l'opera faccio un esempio di intermediazione diciamo donna e racconto una netta che però è vero che è successo una volta sono stato invitato a uno di questi incontri qui dove si cerca si si ci siamo raccontati grazie a te perciò ovviamente questa è un'intermediazione che non ha nulla a vedere con quella che ho visto oggi però esiste allora io mi chiedo qual è diciamo la best pratica di intermediazione e quali sono eventualmente gli step per salire dove sta anche il meccanismo dove deve arrivare il ruolo ad esempio di io piuttosto che di di office che non sono superati perché sono tutti che si è merda ovviamente piuttosto che di un altro quindi non hanno che sono la protezione tra i miei e i miei e i miei e quando questo deve essere sostituito da un'intermediazione più professionale che poi intercetta l'investimento intercetta la capacità di capire un'intermediazione che è un'intermediazione chiedo alla sua risposta chiedo prima la risposta aperta a tutti prima dottor Silvani lei che in questo lato rappresenta ovviamente il CNR che è il padrone di casa qui nella sua esperienza l'intermediazione di conoscenza che per rispondere a tutti sono tantissime variabili perché un ecosistema di innovazione è diverso in Israele ci sono intermediati alla conoscenza diversi Israele è il paese che ha più start up innovativi in proporzione di due ordini di grandezza rispetto a tutti gli altri paesi del mondo questo viene fuori dal 1993 quindi non da 100 anni innanzitutto e loro hanno un loro modo in Italia ci sono strutture che possono essere fisiche cioè i tecnopoli gli incubatori ci possono essere i distretti tecnologici ce ne possono essere tanti come CNR la vostra esperienza per rispondere al suo collega del CNR dov'è secondo lei il ruolo cioè fino a dove può arrivare il CNR fino a dove è utile che si interfacci con altri soggetti io penso che in questo modo si è difficile ricordare un modello unitario unico comportamento storico mentalità e atteggiamenti che sono letteralmente diversificati nella galassia CNR come l'Italia questo è quello che si può dire cioè primavermente è nato il fatto che esistono modalità comuni di cerca storiche personali di istituti che per mille motivi hanno da sempre veicolato qualche relazione con l'esterno e altri c'hanno un'altra seconda c'è un concetto di contesto che è un contesto scientifico e territoriale che è diverso quindi senza credo superiore nulla di firmare non solamente segnalato alcune caratteristiche di apertura della distruzione se si operano in contesto che per mille motivi hanno individuato per le figure istituzionali esterne della distruzione nella distruzione di questo paese c'è storicamente modalità diverse sull'intervento sull'approccio all'interventazione tra la ricerca e l'impresa che ha scelto via via modalità diverse chi ha qualche anno di storia dalle spalle sa che purtroppo nella logica del trasferimento tecnologico della relazione tra la ricerca e la ricerca tendenzialmente si aggiungono soggetti che non si indigono dei soggetti precedenti quindi c'è un fenomeno di stratificazione del tempo per cui in ragione della moda del momento si attivano categorie e modalità diverse le quali in una certa misura ereditano solo con una qualità c'è un esempio da questa logica nel senso che la sua volta sarà identificata con le modalità diverse interdimensioni il collega di tre est ovviamente avendo un'età diversa una storia diversa una provenienza diversa non è veramente venuto a sapere tutta la evoluzione storica con cui queste cose sono state fatte quello che però piuttosto non siamo qui a fare gli storici ma siamo qui a ragionare su cosa fare io credo che sia importante cogliere all'interno della situazione attuale delle opportunità e queste opportunità ci sono e la prima ragione di queste opportunità sta nel fatto che vanno costruiti per costi di valore di produzione specifici per i oggetti che vogliamo con lo di zanio quindi va fatta un'operazione non modello fotografico e fotografico va fatta un'operazione che sia tarata sul cernere e sia dialogante con la tante del cernere operale si è detto che molti sono conseguenze che ci sono degli scenari aperti ad esempio rispetto all'attivazione applicabilmente di rapidissimi delle strategie ragioni ragioni no? tra l'altro sanno sapendo che in sua si è contribuito alla costruzione di qualità di cernere possiamo stupirci che da un certo punto di vista non ci sia un riconoscimento di una funzione di relazione col mondo esterno se non si è partecipato attivamente all'attività di cernere allora per riassumere la considerazione finale io credo che delle possibilità ci siano parla fatta assolutamente un'attivazione anche con fantasia delle opportunità queste opportunità sono secondo me tendenzialmente diverse 10 anni fa nessuno parlava di quanti di pazienti 20 anni fa tutti parlavano di vari scientifici per citare parole chiare oggi tutti parliamo di ecosistema dell'innovazione come risolvere l'intervento di l'innovazione per tornare all'intervento di stavolta domani pensare la nuova chiave la nuova chiave è essere quella che è introduttiva questa relazione allora le mega sperimentazioni di casi di successo moltiplichiamo le opportunità non abbiamo paura di affrontare diverse questioni e se in mente il pubblico definisco il pubblico rimedio la regola è la pubblica di amministrazione allora sono particolarmente in alcuni casi sono in alcuni casi di fare l'anti rispetto a fare le cose più spostiamo sull'utilità e più ci alleggeriamo dei freddi più abbiamo dei successi per farle una domanda operativa visto che io rappresento un intermediario di conoscenza dal punto di vista pratico lo chiedo da ignorante anche se ho lavorato tanti anni al CNR dentro a dei vari istituti quindi lo chiedo anche a direttore Spinella c'è voi avete dei referenti per quanto riguarda la valorizzazione dei risultati cioè come avviene il trasferimento di un ricercatore che non sa dell'esistenza dei venture capitalists nulla ha un'idea va a parlare con il suo responsabile che conosce un po' tutto però dice il mio referente è Roma e il CNR operativamente come funziona lo chiedo da ignorante all'interno del CNR si devono rivolgere alla sede di Roma avete un delegato dentro ad ogni istituto è pensabile all'interno di un'amministrazione pubblica iniziare a fare un tavolo di lavoro dove ipotizzare una organizzazione di questa struttura assolutamente non solo pensate quello che stiamo è assolutamente realizzato c'è una logica di certi concentrici sul territorio e di collegamenti verticali sulle tematiche che funzionano in questa sequenza non possiamo modificare le linee di armi sul territorio che scattano i vincoli e le disponibilità delle risorse non possiamo pensare di migliorare che sarebbe anche estragnante una figura di trasferitore per istituto modificato all'infinito che offre i termini di futario e che perderebbe di contatto con le realtà di cui vogliamo di cui vogliamo essere c'è un problema di qualità per la professionalità che viene spesa in questa attività per cui la professionalità è legata anche all'esperienza che hanno dato sul campo per rinforzare la possibilità quindi è un meccanismo che è un meccanismo che con i cerchi concentrici che dal centro della periferia con la logica di dialogo con la logica di dialogo che hanno come dicevo stamattina realizzando sistematicamente interventi di formazione e promozione sul territorio della realtà abbiamo delle modalità che non sono semplicemente quelle di prendere le pareti e raggiungere le sedi che consentono comunque di liberazione maggiore resta il fatto qui chiudo la considerazione che gli strumenti che devono garantire questo devono essere avventi bilateralmente tra tutte le due parti perché il mondo del trasferimento non è un libro che viene scaricato dallo scaffale che lo serve e riportato direttamente in una linea e poi si continua a fare quello che si vuole fare dicendo questo è utile perché serve se parliamo di allogare sulle persone c'è una nuova fondamentale del riconoscimento del ciclo ovviamente con le introduzioni e le specializzazioni diverse di partecipare tutti a uno stesso grazie una domanda per Mattia Corbetta che sta per andare via a livello del Mise visto che siamo a casa del CNR e quindi è più una casa del Miur magari rispetto al Mise ma visto che il Mise ha fatto tutto a questa innovativa a livello italiano e anche a livello straniero normativa per le start up tecnologiche è pensabile supportare un CNR quando il dottor Silvani e tutti quanti dicono ci sono pochi fondi è pensabile che lo chiedo da mi permetto questo il dottor Silvani venga a bussare al Mise e non al Miur dicendo bene io come CNR ho tra fissi e precari 18, 15, 16 mila dipendenti ho un ufficio di trasferimento tecnologico con questo numero limitato ho dei contatti con le università non si può pensare di creare una struttura a livello universitario a lungo termine che formi come diceva prima Escofiere delle persone che sappiano occuparsi di valorizzazione dei risultati a livello universitario e a livello di ente pubblico di ricerca supportare la creazione di cerchi concentrici sempre più competenti con fondi non a uno o due anni ma magari a cinque anni il Mise in questo è l'ente preposto o non potrà mai e quindi non ha senso neanche attivare un discorso? non ha senso attivare un discorso con me non ho il peso istituzionale l'età il potere per rispondere a questa domanda ok no no era e certo posso fare un commento aspetto al collega del Mise non voglio assolutamente coinvolgere a dare la risposta dal mio senso non è il problema del Mise è il problema di strategia paese questo paese troppo e volte fa partire i progetti all'interno dei quali costruisce a far nascere dell'attesa di gli strumenti Paolo lo ha ricordato con l'esperienza dell'agenzia di loro e salute quel progetto fa dignitosamente la sua parte non vuole dire che porta a risultati eccezionali ma che lo faccia bene o che lo faccia male non dà una continuità alla fase 2 e quindi quello che succede gli strumenti e le sensibilità che sono state attivate in quello scenario muoiono in quello scenario anzi peggio vanno la ricerca di sopravvive e sono tolte a sotto non voglio mettere in questo inizio noi avevamo avuto un progetto che si chiama Piotasa che è un progetto di parallelizzazione in area vivo che ha fatto la sua parte e è arrivato a capolinea adesso ragionevolmente l'operare finanziato sono stati attivati strumenti di collaborazione di rapporti con le imprese eccetera e questi finiscono alla loro volta nel faldone in qualche anno del ministero nel caso nostro eccetera sicuramente no 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 sicuramente le critiche quando sono giuste vanno accettate riconosciute effettivamente c'è un problema grave di schizofrenia del regista cioè non abbiamo un regista sull'innovazione tecnologica in Italia abbiamo tante persone che fanno cose che spesso si sovrappongono che spesso non comunicano tra di loro eccetera eccetera ora ripeto io non sono il regista e non ho assolutamente il potere di influenzarlo però effettivamente forse quello che possiamo determinare a fare è creare una domanda di un tipo di offerta pubblica diverso rispetto a quello attuale cioè più unitario e più nitido sicuramente c'è un problema di dilatazione delle competenze tra Mise e Miur cioè loro hanno la delega all'innovazione però poi l'innovazione tecnologica che dovrebbe scaricarsi nell'impresa e di casa al ministero dello sviluppo economico effettivamente diciamo che negli ultimi negli ultimi due anni c'è stato un dialogo molto più forte rispetto al passato credo almeno da quanto mi dicono tra i due ministeri anche in ambito di progettazione S3 eccetera però effettivamente avere una cabina di regia unica che includa anche il CNR che includa anche altri attori chiave dovrebbe esserci e non c'è se ci sono domande esatto bene la domanda 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 ma da poco tempo c'è una mia esperienza di lavoro in un centro di ricerca aziendale allora in senso ci siamo in un momento nella questione c'è la necessità di definire che è una questione semplice una polis di ente sulla valorizzazione dei risultati della ricerca perché quando sei un'azienda la questione è semplice la questione è un poor business può essere più o meno attenta ma l'idea che deve valorizzare la proprietà intellettuale industriale prodotti dell'innovazione interna c'è la e quando lavora con missione ricerca di ente di ricerca esterna ha l'idea che deve cercare di portarsi a casa una titolarità o una titolarità sui risultati della ricerca l'ente di ricerca è in una posizione diversa tanto più quanto più è in una posizione della ricerca di ricerca Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. pubblico. Grazie a tutti. se non a tutti. Grazie a tutti. mi servono. quindi bisogna organizzare.